Entri in EICMA e vai ovunque e questo è il claim dell'area speciale turismo su due ruote, un'area pensata per chi ama viaggiare in libertà, che offre l'opportunità di conoscere proposte, tour operator e iniziative legate sia alle moto che alle biciclette. 450 in metri quadri occupati dagli espositori, pronti a soddisfare ogni esigenza, dagli itinerari più adeguati agli hotel specializzati nell'accoglienza di viaggiatori su due ruote. La sorpresa sta nella scoperta di mete inedite che coprono tutto il mondo, tra le new entry dell'area anche un parco avventura che permette al pubblico di mettersi in gioco, superare i propri limitri e andare anche oltre. E per sentirsi davvero in viaggio ci sono anche degustazioni enogastronomiche all'insegna dei sapori lontani da casa. Insomma, a Lakeman non sono solo le belle moto a fare sognare, ma anche mete che sembrano irraggiungibili, ma che con un po' di intraprendenza e il tour per retro giusto non lo sono affatto.